Pensa che gli hanno tolto l'azienda che aveva fondato e nonostante tutto è riuscito pure a riprenderne possesso accumulando anche un patrimonio di oltre 10 miliardi di dollari. Sto parlando di Steve Jobs. Vediamo come ha fatto. Io sono Marco Doria e sono un imprenditore nel mondo dell'educazione. Aiuto i ragazzi nel complesso passaggio tra la scuola e il lavoro. In questi video mi piace raccontare storie di chi ha compiuto imprese straordinarie e ce l'ha fatta. E oggi mi piacerebbe affrontare con te un viaggio nella straordinaria vita di Steve Jobs. Bullizzato da bambino e diventato uno degli imprenditori più geniali del ventesimo secolo. E pensa un po', la sua vita è stata ricchissima di fallimenti. Steve Jobs nasce il 24 febbraio 1955 a San Francisco. I suoi genitori naturali si separano dopo la nascita di Steve. E la madre, Joan, trovandosi da sola e avendo tutta la propria famiglia contro, diede Steve in adozione a Paul e Clara Jobs. Steve era un bambino molto curioso, questo fin da piccolo, e poneva domande abbastanza complesse, a cui cercava anche di dare una risposta. Questo probabilmente possiamo dedurre che abbia forgiato il suo spirito critico. Immaginiamoci quindi un bambino gracilino, che soffriva di debolezza in generale, sotto peso. Ovviamente questa condizione lo ha portato a diventare vittima di bullismo a scuola. Ecco, questa era la condizione di partenza di uno degli imprenditori più geniali della storia. Bullizzato, gracilino, eccetera, eccetera. A dieci anni ha imparato a programmare nel computer IBM del padre, e qui si accende ovviamente la sua passione per l'informatica. Questo video è stato offerto dall'Accademia Kama, l'Accademia per imparare a comunicare e diventare digital marketer e social media manager. Nel 1972 si iscrive a Reed College in Oregon. Non era interessato alle materie classiche, uno dei corsi che frequentava con maggiore interesse era proprio il corso di calligrafia. Cosa, competenza, che gli tornerà molto utile poi quando progetterà il Macintosh. Gli anni da studente li vive quasi alla pari di un homeless. Raccoglie lattine in mezzo alla strada per poi rivenderle, dorme dove capita scroccando divani qua e là agli amici. Non si lava e mangia pasti gratuiti nelle mense. Ed è proprio mangiando a sbafo in una mensa nel tempio di Iskon degli induisti seguaci di Krishna che si innamora della filosofia orientale. Nel 1974, stufo dell'università, entra in Atari come progettista di videogame. E sempre nello stesso anno, con i primi soldi racimolati dal lavoro, Jobs si recò in India per cercare l'illuminazione. Ovviamente, da pazzo qual era, torna dopo un mese con la testa rasata e gli abiti tradizionali, affermando di essere diventato anche lui un buddista. Diventa vegano per un periodo fruttariano, indovina un po' il suo frutto preferito, neanche a dirlo sono le mele. Torna a lavorare in Atari e gli commissionarono un progetto che condivise con il suo amico Wozniak, ai tempi dipendente della Hewlett Packard. E insieme svilupparono il videogame Breakout. O meglio, Jobs ha usato la testa, ma il videogame lo ha sviluppato Wozniak. Nel 1976, all'età di 21 anni, sentì la necessità di creare qualcosa di nuovo. Era una persona creativa, era un sognatore. E l'opportunità venne proprio dalla frequentazione del suo amico Wozniak. Wozniak aveva progettato un nuovo tipo di personal computer, proprio mentre lavorava in HP. Ed era partito dall'idea che il settore dell'informatica era focalizzato nettamente, principalmente sulle aziende e non sui consumatori. Quindi propose questo progetto in HP, ma l'azienda, molto concentrata sulle altre aziende, si rifiutò di produrlo. Ecco, qui Jobs ha intravisto il buco di mercato e decise di prendere la palla al balzo. Fondò così la sua azienda, la sua società, con il suo amico Wozniak, con l'idea di rivoluzionare il settore dell'informatica. Sede legale e sede operativa al garage di casa. Nome della società e il frutto preferito da Steve, ovvero Apple. Capitale sociale, i soldi ricavati dalla vendita di un furgone e da una calcolatrice scientifica. 2000 dollari in tutto. E inizia così l'avventura imprenditoriale di Jobs. Quindi l'idea c'era, ovvero creare un personal computer che dovesse andare nelle case degli americani. Il capitale che pur piccolo comunque c'era e c'era anche il laboratorio. Mancava però un nome per il computer. Ma sì, chiamiamolo Apple One, così rimaniamo in tema. Presero il microprocessore MOS6502 e assemblando i componenti elettronici disponibili sul mercato crearono questo computer. Quindi presero cose già esistenti e le assemblarono semplicemente. A questo punto però serviva un cliente. Jobs in passato aveva lavorato a The Byteshop, un negozio di appassionati di elettronica che si trovava nei dintorni. E fu proprio lì che ricevettero il primo ordine, ovvero 50 Apple One. E ben presto si sparse la voce, ma diciamo nel gruppo, nella nicchia degli appassionati di tecnologia, comunque vendettero 200 Apple One in tutto. Ecco, questo fu, possiamo dire, un passaggio importantissimo in questa storia, ovvero grazie a queste vendite Jobs poteva dimostrare agli investitori che questi prodotti erano ricercati ed erano validi. E uno dei primi investitori a credere a questa idea fu proprio Mike Marculla, ovvero un ex manager di Intel che investì 250.000 dollari in cambio di un terzo delle azioni dell'azienda. E quindi, superata questa fase di startup, sono iniziati i lavori per il secondo progetto di casa Apple. Così nel 1977 viene lanciato Apple II, personal computer a 8B con una CPU MOS Technology da 6502 da 1 MHz e una RAM da 4,48 KB. Pensa che Apple II è stato uno dei primi computer ad avere una scheda madre completamente integrata. Tra le funzionalità c'era la possibilità di visualizzare grafici a colori, avere un suono avanzato e un'unità di floppy disk opzionale. Ma grazie alla sua architettura open era anche possibile aggiungere componenti hardware e software personalizzati. E questo ha reso Apple II un computer molto versatile, adatto sia alle case che all'uso aziendale. Ed è stata, se ci pensiamo, una rivoluzione tecnologica perché Apple II è stato proprio il primo computer diventato davvero alla portata di tutti. E se ci pensiamo, è stato venduto fino al 1993, ovvero 16 anni di onorata carriera che negli anni dell'informata equivalgono veramente a un'era storica. Però torniamo al 1979. Jobs aveva ottenuto il successo che tanto desiderava. Aveva effettivamente rivoluzionato il settore dell'informatica, cioè il suo obiettivo principale. Questo ovviamente però non ha affermato la fame di quest'uomo che non ne aveva mai abbastanza. Serviva un'altra idea. Così, durante una visita alla Zeros, vide un prototipo di un computer con una grafica ad alta risoluzione, un'interfaccia utente basata su icone e finestre. Ecco, Steve Jobs capì che questo sarebbe stato il futuro. Formò subito un team di ingegneri e designer. L'obiettivo era di creare un nuovo prodotto ancora più rivoluzionario, che doveva essere facile da usare e avere una grafica ad alta risoluzione, ma con una particolare attenzione al design del prodotto, quindi all'estetica. E come lo chiamiamo? Pensiamoci bene. Beh, dai, rimaniamo in tema. Chiamiamolo Macintosh, che è una varietà di mele. Nel 1980 Apple si quota in borsa con un'offerta pubblica iniziale di 4,6 milioni di azioni al prezzo di 22 dollari l'una. L'operazione fu un successo. Jobs è diventato milionario. Ma queste cose non interessavano a Jobs. Il focus era tutto sullo sviluppo del Macintosh. E Jobs non badava troppo all'azienda, quindi decise di fare un passo molto azzardato. Nel 1983 offrì a John Sculley CEO della Pepsi il ruolo di CEO in Apple. Quindi, come per dire, sostituitemi per favore, metteteci qualcun altro a fare il CEO perché io voglio sviluppare il prodotto. E così nel 1984 l'Apple ha lanciato finalmente il Macintosh con una famosissima campagna pubblicitaria durante il Super Bowl. E il successo però non fu immediato, tanto che al lancio le azioni calarono leggermente, ma l'impatto è da considerare però sul lungo periodo. E se ci pensiamo, ancora oggi, Macintosh è uno dei computer più utilizzati. E quindi sembra che Apple vada per il meglio, è tutto rose e fiori. Ma, attenzione, nel 1985, proprio per dei contrasti con Sculley, Jobs viene stromesso dall'Apple, viene mandato via a calci. Quindi immaginiamoci una persona che ha dedicato la vita a un progetto e si vede togliere da sotto il naso la sua creazione, il suo bambino. La Apple per Jobs era totalizzante, era tutto. E lui in un attimo ha perso tutto quanto. Fu un trauma tremendo per Steve. Uno di quei colpi bassi che non verranno mai e poi mai digeriti. Pugnalato alle spalle dal suo stesso consiglio di amministrazione. In piena depressione personale, in uno dei momenti più bui della sua vita, Steve Jobs ebbe un'idea. Fondò una nuova società ancora più tecnologica della Apple che gli va da dritta in concorrenza. Diciamo che è uscito un pochettino il suo spirito di rivalsa e vendetta. E proprio per far capire al mondo che il successo deriva dalle intenzioni di Steve Jobs che si crea questa nuova azienda. E come la chiamiamo questa nuova azienda? La chiamiamo Next. La Next era un'azienda che creava computer altamente tecnologici. I Next Computer lavoravano con un sistema operativo creato appunto internamente, il Next Step. E nel 1986, tanto per non farsi mancare nulla, Steve Jobs ebbe un'altra delle sue intuizioni. Vide che il futuro del cinema andava nella direzione dell'animazione grafica. Quindi acquista per 10 milioni di dollari la sezione di computer grafica della Lucasfilm con l'idea di creare qualcosa di nuovo e di davvero innovativo. E come al solito, c'è riuscito. Fonda così la Pixar Animation Studios che ha portato al successo con capolavori di animazione come Toy Story, come Monster & Co e come Gli Incredibili. Torniamo un attimo però alla Next Computer. Anche questa ebbe successo desiderato? Assolutamente no. Il Next Computer funzionava molto bene, ma soltanto tra programmatori e ricercatori. Non riuscì mai a penetrare il mercato dei consumatori proprio a causa del suo prezzo elevato. Anche perché comunque la tecnologia Next Step era davvero all'avanguardia. Jobs aveva creato un prodotto unico, ma di difficile distribuzione. Però è arrivata l'opportunità e da che arriva? Arriva proprio da Apple che passando un momento di difficoltà nel 1996 decisi di acquistare per 400 milioni di dollari il sistema operativo Next Step proprio da integrale ai propri Mac che si trasformeranno poi in MacOS X. Questa manovra portò di nuovo Steve Jobs dentro la Apple ma come consigliere delegato non ufficiale, una sorta di consulente esterno che però giocò un ruolo veramente fondamentale per la ristrutturazione dell'azienda. La prima cosa che fece Steve Jobs fece assumere Gilbert Amelio come CEO. Ricordiamo che Scully era stato licenziato dal Consiglio di Amministrazione e non da Jobs nel 1993. Amelio però non riuscì a risanare l'azienda tanto che nel 1997 fu di nuovo eletto Steve Jobs CEO dell'azienda. La prima cosa che fece Steve Jobs ridurre i prodotti ovvero da 15 a 4. E l'obiettivo doveva essere uno migliorare l'esperienza dell'utente su ogni prodotto. Nel 1998 per prendere un po' di terreno sui PC Windows che stavano andando molto forte Jobs creò un team guidato da Jonathan Hive proprio per progettare un nuovo modello di Macintosh. L'idea era quella di creare un prodotto dal design semplice e funzionale disponibile in quattro colori così nacque l'iMac un nuovo successo firmato Jobs. Nel 1999 Jobs si concentrò sulla creazione del nuovo quartier generale di Apple il campus di Cupertino e nello stesso anno annunciò l'intenzione di Apple di entrare nel mercato della musica digitale e alla fine dell'anno acquistò la società di software musicale Sound Jam MP. Siamo nel 2000 Apple ha lanciato il Power Mac G4 Cube dal design compatto che non ebbe nessun successo sempre nello stesso anno aprì il primo Apple Store in Virginia e Jobs ricevette il titolo di CEO dell'anno dalla rivista Fortune. Nel 2001 Apple si apre al mondo della musica lanciando iPod e iTunes l'idea dell'iPod è nata quando Steve Jobs ha notato che i lettori MP3 esistenti all'epoca erano tutti di grandi dimensioni difficili da usare Jobs ha deciso di creare un lettore musicale semplice elegante e facile da usare che potesse contenere migliaia di canzoni e avrebbe potuto sincronizzarsi con facilità al computer quindi fece un accordo con le principali case discografiche dell'epoca quindi la Sony la Warner la Universal proprio per ottenere i diritti di vendita delle canzoni sullo store permettendo così agli utenti di acquistare i singoli brani o album completi direttamente online inoltre Jobs annunciò il lancio di MacOS X il nuovo sistema operativo Apple basato su Unix che sarebbe poi diventato il sistema operativo standard di tutti i Macintosh nel 2003 la Apple stava lavorando su un progetto tablet però Steve Jobs ebbe un'altra intuizione ha detto no ragazzi il tablet non è interessante perché non ci concentriamo sui telefoni proprio perché usando i telefoni dell'epoca Steve era frustrato dall'idea che funzionassero male erano scomodi da usare così nel 2007 Steve Jobs presentò l'iPhone rivoluzionando così il mercato degli smartphone e del settore mobile in generale nel 2008 Jobs presentò l'iPhone 3G con una connettività 3G più veloce ad un prezzo inferiore rispetto al modello precedente e fu anche l'anno in cui presentò il primo MacBook Air il portatile più sottile di Apple e il più sottile in generale fino a quel momento inoltre sempre nel 2008 Steve Jobs si introdusse l'App Store ovvero l'Apple Store per iPhone che permise agli sviluppatori di creare applicazioni di terze parti per iPhone e questa cosa aprì la strada a un nuovo settore cioè creò un'industria nuova pensaci bene è stato anche l'anno in cui sono esplosi i social tipo Facebook l'applicazione su iPhone ha giocato un ruolo fondamentale anche perché tutti avevano a disposizione i social direttamente sul proprio telefono quindi iPhone che vendeva a un prezzo altissimo ha sotterrato la concorrente tipo Nokia che vendeva a un prezzo ridicolo la telefonia è stata disintegrata in un colpo solo da Steve Jobs e nel 2009 che ha fatto ha cominciato a lavorare anche sui tablet e ha creato iPad e ha rivoluzionato anche lì tutto il settore però era anche l'anno che Steve Jobs ha cominciato a sentirsi male il 24 agosto del 2011 Steve Jobs si dimette da CEO di Apple proprio per problemi di salute e nomina come suo sostituto Tim Cook purtroppo Jobs morì il 5 ottobre del 2011 a causa di un tumore al pancreas che l'aveva colpito nel 2004 questa era la storia di Steve Jobs un genio ribelle visionario che ha cambiato il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia che ha saputo rialzarsi dai suoi innumerevoli fallimenti trasformando il mondo dell'informatica con un brand che ancora oggi è considerato uno dei più potenti e riconoscibili della storia se questo video ti è piaciuto metti like iscriviti al canale e mi raccomando lasciami un commento per dirmi beh Marco cavoli sono belli questi video fanne ancora mi raccomando fammi sapere la tua ciao e alla prossima